Salvatore si vuole fare Salvatore da dirò Bello E finisce Questo Valencia va in Champions Speriamo Tre partite, sono tre finali, la prima è stata vinta Ci vediamo alla prossima Secondo lei, Mazzeo Questo Valencia? Non lo so, diventa il campionato Le altre squadre, le sfinanti, chi sono? Qual è il calendario? Celtic e poi Real Madrid Celtic e Real Madrid Sarà dura Impossibile